La Procura della Repubblica di Novara ha disposto il dissequestro dell'area del Cavalcavia 25 aprile, con notifica del relativo decreto. A questo punto spiega il sindaco di Novara Alessandro Canelli potranno partire immediatamente i lavori di riqualificazione del Cavalcavia in modo che, quanto prima, possa essere riaperto al traffico. In attesa del dissequestro, gli uffici comunali si erano attivati per la gara e la relativa aggiudicazione. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.